La Toscana è sempre più ciclabile con i nuovi 5 km di piste illuminate e aree di sosta totem informativi per i ciclisti. Dopo l'annuncio di un finanziamento di un milione e mezzo di euro nei comuni di Subbiano, Calcinaia e Pisa. Si tratta di progetti che rientrano nel piano complessivo che riguarda le infrastrutture ciclabili lungo l'asta fluviale dell'Arno e del sentiero della Bonifica e lungo il tracciato della ciclopista tirrenica. Quella della mobilità sostenibile attraverso piste ciclabili è una politica forte della regione su cui noi ci concentreremo. È uno stile di vita diverso ma che attraverso la bicicletta, attraverso le due ruote riduce emissioni e dà anche un senso di attività motoria che senza volerlo ogni cittadino può fare a beneficio della sua salute. Nel 2018 era stata fatta dalla Giunta una procedura di selezione di proposte progettuali e fra i progetti ritenuti ammissibili c'erano anche quelli che oggi la regione ha deciso di finanziare. Questi sono contributi a favore dei comuni di Subbiano, di Calcinaia e di Pisa su progettazioni comunali ma che sono integrate da qui il bando che abbiamo emesso come regione toscana per collegare centri abitati e comunque aree di interesse locali con le nostre grandi ciclovie.